Massima sicurezza per tutti, compresi i cavalli. Con il ritorno della giostra del Saracino, la 141esima edizione a capienza regolare, anche il lavoro dell'emergenza urgenza dell'ASL è tornato a piano regime. Il piano di sicurezza sanitaria è ormai da tanti anni standardizzato nella strategia da impiegare in caso di malori e di incidenti durante lo svolgimento della manifestazione. La valutazione degli eventi e la scelta delle risorse da impiegare è dettato dal protocollo di intesa tra Ministro della Salute, Regioni e province. Le vicende degli ultimi anni e la situazione generale, ha dichiarato il direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza Massimo Mandò, ci hanno spinta a predisporre un piano molto accurato che garantisca il corretto svolgimento della manifestazione e la sicurezza di tutti sia all'interno di Piazza Grande che fuori. Nelle vicinanze dell'area di svolgimento della giostra saranno presenti 5 ambulanze e circa 40 soccorritori forniti dalle associazioni di volontariato che da sempre affiancano il 118, suddivisi squadre a piedi in grado di accedere velocemente ad ogni angolo della piazza. Tra loro ci sono medici ed infermieri che hanno una specifica formazione nella gestione dell'emergenza, soccorritori formati specificatamente per questi eventi ed un disaster manager, un sanitario con formazione specifica al coordinamento e alla gestione di eventi maggiori. Anche il corteo dei figuranti sarà accompagnato da due ambulanze e vari sanitari pronti ad intervenire. Questo nostro impegno, conclude Mandò, servirà la giostra in tutti i suoi momenti ad iniziare dalla provaccia di giovedì 16 giugno. Naturalmente l'ASL, attraverso il proprio dipartimento di igiene pubblica e prevenzione, seguirà ed assisterà la giostra anche nella parte veterinaria, quella riguardanti i cavalli. In particolare l'impegno si concentrerà sulla supervisione del lavoro dei veterinari del quartiere e la corretta attuazione dei regolamenti stilati ed approvati sia dal comune che dall'organizzazione e che riguardano il benessere animale.